Bentornati pirati della ciurma di Capitan Bandana sulla nave di questo strano capitano Oggi parliamo della puntata numero 5 della sesta stagione di Flash Dal mio punto di vista la migliore sino a questo momento Mandiamo la sigla e poi iniziamo Comunque sapete benissimo che ho un approccio del tutto differente nell'analizzare Flash Rispetto a quello che solitamente utilizzo per approcciarmi a pellicole cinematografiche o altri prodotti seriali Mi piace entrare nelle scelte di sceneggiatura e dimostrare che cosa funziona e cosa invece non è concretamente adeguato al contesto, all'episodio e così via Facciamolo suddividendoci il lavoro in sottotrame Da un lato abbiamo Sisko e Camilla che devono affrontare la morte di Gypsy Cercando di scovare l'assassino che purtroppo ha tolto la vita alla stessa Cinzia Sisko dà vita a questo Barry, orribile, che io e Blues abbiamo odiato nel corso dell'episodio Poiché Sisko non ha bisogno di supporti Poi però capisce di poter andare avanti da solo Ed è stupendo vedere come Barry in realtà fosse già completamente consapevole di quello che stava per accadere Di come Sisko sarebbe tornato sui suoi passi Ecco adesso ho praticamente riassunto ma che cos'è che mi è piaciuta di tutta questa sequenza Di queste sequenze Anzitutto la voglia degli scrittori, degli sceneggiatori di spingersi ancora una volta oltre Osando, facendo fuori un altro personaggio che in passato ha avuto la sua importanza Quindi eliminarla è stato un ottimo espediente per inspessire la narrazione Per renderla più drammatica Il Sisko indipendente ha tutt'altra forza Sembra innanzitutto che l'attore sia più felice nell'interpretare da sua parte E tra le altre cose dà vita a dei momenti gialli, thriller, molto contorti Tutta la faccenda legata infatti a questo tizio, non mi ricordo più il nome ecco se non sbaglio Che è il villain della settimana che grazie al cielo non è neppure un meta umano Ma una faccenda degna di un giallo Ci vuole un detective per capire cosa sta realmente accadendo Quindi bisogna unire le prove che ci sono e che sono anche abbastanza semplici da seguire Bisogna fare 2 più 2 E se finisce per rimanere ingannati È innegabile che anche lo stesso spettatore dubiti più volte di Sisko Cioè non si è totalmente convinti di cosa stia accadendo Nonostante, ripeto, le possibilità di comprendere ci siano e come La sceneggiatura infatti vuole proprio depistare L'obiettivo principale è proprio questo Sviare, sviare Mettere prove davanti come ho ripetuto più volte Ma non lasciare certezze Il contatto Ralph Killer Frost secondo me è veramente superfluo Infatti è svanito dopo pochi secondi Nella puntata non ha avuto più un ruolo Tutto quello che ha ruotato intorno a Killer Frost Io l'ho capito relativamente Mi sembra strano che si tenti ancora di far redimire Ramsey Rosso È una cosa che non ho apprezzato Non solo perché ormai lo vediamo in ogni puntata di ogni serie DC Il buono che tenta di redimere il cattivo Il che ha anche senso Però a livello puramente narrativo è stancante e monotono Ma al di là di questo è proprio inutile Ci dovrebbe essere chiaro che ormai ha perso completamente il cervello A cosa serve tentare di farlo rinsavire? Poi non ci siamo resi conto di una cosa Non c'è mai Caitlyn In questo caso ritorna per 20 secondi Dopodiché si passa un'altra volta a Killer Frost Cioè praticamente Snow ha detto a se stessa Basta smetto di vivere per regalarmi al mio alter ego È strano Non va bene Nessuno chiede a Caitlyn o a Killer Frost Come mai Caitlyn non abbia più il suo spazio Dovrebbe farlo qualcuno no? E questo è un buco di trama per quanto mi riguarda Per non spiegare come mai in questo momento Si preferisce tenere sullo schermo Killer Frost Che questa è la verità Gli sceneggiatori, gli scrittori Credono che allo spettatore faccia più piacere Vedere la tizia con i capelli bianchi di Caitlyn E quindi ci lasciano lei ad oltranza E poi c'è un altro passaggio in cui papà Joe Può raccontarci nuovamente la sua storia Sempre molto interessante Su perché ha fiducia nel mondo Tuttavia credo che anche questa sia particolarmente forzata Lui spera che il team lo venga a salvare Alla fine Ralph arriva Ma spiega come lo ha trovato E secondo me la sua versione non regge Racconta che è andato a dipartimento Perché aveva bisogno dello stesso capitano Joe E quando gli hanno detto che non lo vedevano Da tutta la giornata Si è preoccupato, si è messo a fare ricerche sulla targa Alla fine ha seguito quel percorso Poi quell'altro in pochissimi minuti Ed è arrivato alla conclusione Che si trovasse in quelle catacombe Ragazzi è un po' forzato A parte che è complesso Come ancora una volta mi faceva intuire Blues Che tutto questo avvenga in pochi istanti E inoltre è proprio surreale Che ci si preoccupi così velocemente Di un individuo quando non lo si vede da qualche ora È veramente troppo Veramente esagerato Tra le altre cose non capisco perché Nash Wells non distrugge il muro Oltre quale si dovrebbe trovare Monitor Dunque sono un po' titubante Perché sono un po' titubante? Perché la facciata di Cisco è veramente stupenda È veramente di buon livello Quasi alto livello Ha dei picchi da alto livello Tutto il resto funziona e non funziona Tutto sommato però è anche un episodio valido Anche registicamente Ho notato tantissimi primissimi piani E particolari sugli occhi Che in questa serie praticamente non esistono E soprattutto sapete cos'è? Che ha snellito il contenuto Puntando sulla qualità Più che sulla quantità Ovviamente la diminuzione delle sottotrame Ce ne sono molte meno a questo giro E viene una predominante sulle altre Che è per l'appunto Quella di Camilla e Cisco Sono felice di questo Sono felice che abbiano creato una scaletta Che abbiano gerarchizzato il prodotto La puntata Questo come avete notato Ha sicuramente portato Incredibili vantaggi Per me è un 7 Quasi pieno Batte ripetendo tutte e quattro Le puntate precedenti Della terza quarta puntata migliore Della CW Da ottobre Sino ad adesso Quindi Nel nuovo arco Stagionale Mettiamola così Grazie a chi mi ha ascoltato È tardi Ma volevo fare la recensione Adesso Spero si senta bene Noi ci vediamo nel prossimo video Fatemi sapere che ne pensate Sia della recensione Per me è importante Che mi diate un feedback Su come lavoro Perché per me è un lavoro Anche se non guadagno niente E E poi chiaramente anche È importante che mi facciate sapere Cosa ne pensate Della puntata Grazie Ancora Sigla finale Oh che spentola di pubblico Mi sento già stranito La vita di prima Mi puzza di vecchio Sapete adesso gente Che dovete fare Iscrivervi al canale E poi anche commentare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti